Siamo qui per un motivo ben preciso, in procinto delle festività natalizie, facciamo un appello per questa nostra cagnolina Zara, un ritrovamento fatto a Forio, zona Zaro, per questo si chiama Zara, stava in uno stato pietoso, ora è stata rimessa in sesto e cerchiamo un'adozione, vuole dare tanto affetto, ricordiamoci che i cani sono un affetto vero, fanno parte del nostro nucleo familiare e quindi come tutti gli affetti non vanno comprati ma vanno adottati. Zara, il cane ischitano trovato a vagare sulle colline di Forio, cerca casa o meglio una famiglia che lo adotti, di cui l'appello di Giovanni Esposito, rappresentante dell'associazione Paspro Natura Ischia, il quale proprio a riguardo delle adezioni degli amici a quattro zampe ci aggiorna sulle nuove disposizioni. Dal 2020 è ufficiale la registrazione del cane alla primo mese di nascita, oggi non basta più, oggi è obbligatorio dichiarare la provenienza del cane, altrimenti si incorre sia in sanzioni economiche e sia in sanzioni penali. Questo va precisato perché è fatto per mirare, per evitare che spesso privati cittadini fanno cucciolate in maniera molto leggera e quindi ci può essere un focolaio di randaggismo, di abbandoni. Giovanni, inoltre ha voluto fare chiarezza su uno dei tanti esposti presentati ultimamente dall'associazione Paspro Natura. Colgo anche l'occasione per fare un piccolo chiarimento. Noi abbiamo fatto nei vari esposti che facciamo per quanto concerne i maltrattamenti animali, in uno caso specifico abbiamo evidenziato e abbiamo messo in dubbio la mancanza di assistenza sociale per una persona. Noi ci riferivamo ovviamente specificatamente all'assistenza medico-terapistica e non a quella ordinaria che la cara Irene Orsini con Miriam De Luca e le altre ragazze svolgono in maniera molto eccellente e ci danno anche una grossa mano in diverse occasioni.